Musica Migranti della Open Arms dirottati a Salerno, la nave dell'ONG con 73 profughi a bordo era stata indirizzata al porto di Napoli. Il piano è cambiato per il maltempo, per azioni di sbarco condizionate dal vento, gli immigrati saranno smistati nei centri della campagna. Vento forte e mareggiato, allerta per altre 24 ore, situazione difficile in costiera amalfitana e ora c'è il rischio incendi. Il dirigente dei Vigili del Fuoco di Napoli, Ponticelli ad Otto Channel, pronti a fronteggiare l'emergenza, il parco del Vesuvio osservato speciale. Autonomia si accelera ma De Luca va all'attacco, al Senato un altro passo verso la riforma, senza definire i livelli essenziali delle prestazioni. Duro monito del Presidente della campagna, così il governo non andrà lontano, così si spacca l'Italia in due su scuola e sanità. Ragazzini accoltellati, torna l'allarme baby gang. A Napoli continuano le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento di due ragazzini di 12 e 15 anni. Don Luigi Merola striglia la classe politica. Le forze dell'ordine da sole non ce la fanno, istituzioni e amministratori troppo assenti. Avellino, estate di concerti, così l'economia riparte. Esordio positivo per l'estate in città con Rosa Chemical. Oggi la tradizionale alzata del pannetto che apre il ferragosto religioso. La gente promuove gli eventi voluti dal comune, così si rilancia anche l'immagine della città. Rifiuti anche un drone contro gli incivili. Potenziare e migliorare il servizio di pulizia attraverso un controllo intelligente del territorio in un'ottica di smart city. E' l'obiettivo del piano dell'Asia di Benevento. Mastella annuncia presto un drone per stanare chi sporca la città. Buon pomeriggio. Questi erano i nostri titoli. Ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 16. Andiamo subito sul primo piano. Il 29esimo sbarco dei migranti a Salerno in un primo momento. Sarebbero dovuti andare a Napoli, ma il maltempo ha dirottato la nave su Salerno. La NG spagnola Open Arms è attraccata alle 11.35. Vediamo. Attraccato alle 11.35 al molo Manfredi di Salerno la nave ONG spagnola Open Arms. 72 migranti a bordo, tutti di sesso maschile tra loro, solo un bambino provenienti da Palestina, Bangladesh e Africa sub-sahariana recuperati a largo di Palermo e nel Mediterraneo centrale. In un primo momento lo sbarco sarebbe dovuto avvenire nel porto di Napoli. Il cambio di programma è stato causato dalle cattive condizioni meteomarine. Una persona in stato di salute critica è stata evacuata dall'imbarcazione durante il tragitto. La macchina dell'accoglienza ha funzionato a Salerno nonostante le operazioni di sbarco siano state rallentate molto dal forte vento e dal mare agitato. La macchina è rodata, verranno verificate le condizioni di salute ad opera dei medici e poi si procederà con l'identificazione e poi lo smistamento nella provincia di Salerno come le intese raggiunte con il prefetto di Salerno. Alla fine età appunto quello dell'attività di polizia giudiziaria è quella di individuare eventuali scafisti attraverso le operazioni di recupero che sono state fatte a mare. Presente come sempre oltre a volontari e forze dell'ordine il settore politiche sociali del comune di Salerno. Siamo stati avvertiti diciamo proprio veramente all'ultimo momento quindi come settore politiche sociali siamo sempre pronti ad affiancare la prefettura e tutti gli altri soggetti coinvolti. Questa volta per fortuna sembrerebbe ci siano solo uno o due minori non accompagnati, sembrerebbe siano tutti bene in salute, qualche situazione un po' più complessa è già stata fatta sbarcare. La cronaca trema la terra in campagna, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata alle 10.20 stamane nel comune di Laviano. Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nell'area dell'Alto Sele ma in una vasta zona che comprende anche la provincia di Avellino. Si tratta della stessa fascia di territorio che venne devastata dal terremoto del 23 novembre del 1980. Adesso parliamo dell'estate, dei cambiamenti climatici, graffiche di vento, rischio incendi, mareggiate, l'allerta continua in campagna e abbiamo ascoltato il dirigente vicario del comando dei vigili del fuoco di Napoli. Si tratta di Luca Ponticelli che ha detto siamo pronti a fronteggiare ogni emergenza. Vediamo. Dal caldo record all'allerta fino a stasera alle 20 per mareggiate con onde fino a 2 metri e 20 forti in campagna. L'avviso della protezione civile interessa tutta la regione e i disagi ci sono per tutti i collegamenti con le isole. Quelli con Amalfi dove ieri c'è stata un'improvvisa e violenta mareggiata. In tilt il trasporto lungo la Divina Costiera dove l'interruzione del trasporto marittimo con Amalfi ha scatenato disagi per il traffico sulle strade che collegano i vari comuni. La Capitaneria di Porto è in allerta su tutte le coste campane con interventi in mare come a Torre del Greco dove sono stati due i diportisti soccorsi che hanno rischiato di finire contro gli scogli. A Ischia rinviata la festa del mare agli scogli di Sant'Anna e attenzione agli incendi che complice il vento battente rischiano di correre veloci. Siamo in allerta sia per gli aspetti legati al rischio idraulico che anche soprattutto per gli aspetti legati al rischio di incendio. Siamo pronti e ben attrezzati per pronteggiare questa emergenza ovviamente. Molte le zone che sono attenzionate speciali. Visto anche il clima secco e torrido, le zone maggiormente boscate, comunque insomma noi abbiamo in atto delle convenzioni che hanno consentito di potenziare il sistema di risposta in caso di emergenza. Prudenza e civiltà restano le buone regole da seguire. Avvisare immediatamente gli organi preposti appena c'è la sensazione che stia bruciando qualcosa. Non bisogna ovviamente gettare cicche di sigaretta in mezzo alla strada. L'invito a chi ha campagne, terreni agricoli a non bruciare nei periodi di particolare suscettività come questo, gli scarti, le potature, gli sfalci. Una rete di spacciatori di droga extracomunitari che da Castelvolturno in provincia di Caserta si estendeva fino al Basso Lazio è stata smantellata dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. In mattinata è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Santa Maria Capoavetere su richiesta della Procura San Maritana. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede della Procura di Santa Maria Capoavetere. Al Senato un altro passo verso l'autonomia differenziata ma senza definire i livelli essenziali delle prestazioni. Duro monito del governatore De Luca così il governo non andrà lontano. Autonomia differenziata, il governo accelera. Dal Senato via libera l'ordine del giorno per la riforma, il cui iter va avanti anche senza la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Opposizione sulle barricate, anche la campania attraverso il presidente della regione Vincenzo De Luca contesta il modus operandi del governo nazionale. Ma non credo che andranno molto lontano. O decidiamo di fare persone serie sull'autonomia differenziata, oppure se si immagina di spaccare l'Italia più di quanto già non sia, non credo che andranno molto lontano. In ogni caso siamo impegnati da anni in una battaglia per un'autonomia corretta. Cioè per noi l'autonomia significa sburocratizzazione, significa evitare centralismi inutili, significa decentrare sui territori le autorizzazioni ambientali, i piani paesaggistici, i lavori di intervento nei porti, contro forme di centralizzazione sbagliata. Per De Luca, intervenuto a margine di un appuntamento a Cava dei Tirreni, il rischio concreto è di dividere ulteriormente il paese. Ovviamente a partire dal rispetto degli uguali diritti dei cittadini italiani al Piemonte e alla Sicilia, e questo soprattutto per la sanità e per la scuola. L'ipotesi che va avanti a parte del governo non garantisce l'uguaglianza ai servizi né per la sanità né per la scuola. Torna l'allarme Baby Gang a Napoli. I carabinieri indagano sull'accoltellamento di un 12enne ed un 15enne. Don Luigi Merola striglia la classe politica. Vediamo perché. Emergenza giovanile a Napoli, un'altra notte di sangue. E i protagonisti sono sempre giovanissimi. Il bilancio è di due feriti, di 12 e 15 anni, finiti in ospedale con lesioni causate da arma da taglio. E sebbene i due sono giunti in due pronto soccorso diversi, secondo gli investigatori, i due episodi sono collegati. La violenza si è consumata nel quartiere di Poggio Reale, ma non si conoscono ancora i motivi. I militari della locale compagnia hanno avviato le indagini, ma resta comunque sconcerto per le continue violenze che vedono sempre minorenni alle prese con agguati e accoltellamenti. Don Luigi Merola, che da sempre al fianco dei giovani e contro le deveanze, striglia la classe politica. Manca ancora un patto, quel famoso patto educativo che è stato filmato più di un anno fa e che non si è realizzato. Cioè tutte le realtà del territorio non basta solo il terzo settore o le parrocchie, ma lo Stato proprio con i suoi organismi, con i suoi uffici doveva trovare risorse per creare più campi di calcetto, più palestre, più luoghi di aggregazione. Invece spesso questi ragazzi sono lasciati soli al pomeriggio o a sera e poi questo è il risultato che noi vediamo, l'utilizzo di coltelli, di violenza. In effetti tramite voi l'appello ancora una volta che io lancio è che la politica si deve svegliare. Non è possibile che noi stiamo sempre ogni giorno a commentare questi fatti. Restiamo a Napoli, l'ex presidente del Napoli Calcio, Corrado Ferlaino, 92 anni, ricoverato al Policlinico dopo essere rimasto vittima di una brutta caduta dalle scale. Si è procurato una frattura del setto nasale, un leggero trauma alla testa, ma le sue condizioni fortunatamente sono buone. È sotto le cure del professore Luigi Califano, professore ordinario di chirurgia maxillo-facciale dell'Università Federico II di Napoli. Ma cambiamo argomento. Forti critiche al sistema sanitario campano da parte dei consiglieri regionali di Sud, protagonista e la Lega per Nappi. Fondamentale andare verso il disegno Calderoli, mentre Sud, protagonista con Ronghi, spinge per la creazione di un'azienda unica dell'emergenza per il pronto soccorso. Conferenza stampa sulla sanità in Campania, organizzata da Sud, protagonista, col contributo anche di altri consiglieri regionali. Forti critiche per la gestione di De Luca, da superare secondo Nappi della Lega con la definizione dei LEA, in ottica autonomia differenziata. Il dramma della sanità campana è sotto gli occhi di tutti, tranne che del Presidente, che continua a usare i mezzi della non-democrazia per nascondere la verità delle cose, che purtroppo si traduce invece in un disastro che viene quotidianamente vissuto, non solo dai cittadini, ma anche dagli stessi operatori. Il disegno di legge firmato da questo governo dice chiaramente che bisogna mettere in campo i livelli essenziali delle prestazioni. Si è concentrato sulla situazione dei pronto soccorso ronghi di Sud, protagonista auspicando la creazione di un'azienda unica dell'emergenza, col supporto della segreteria del partito. Bisogna creare l'azienda unica per l'emergenza campana. Significa mettere a sistema e creare un'unica azienda tra Cardarelli, Ospedale del Mare e Ospedale San Paolo. Tre ospedali che metterebbero insieme 1.518 posti letti con tre pronti soccorsi di eccellenza. La proposta, così come è ben esplicata da Salvatore Ronghi, è quella di creare un'azienda dell'emergenza unica che possa in qualche modo riorganizzare, soprattutto sotto il profilo dei pronti soccorsi, la struttura organizzativa. Abbiamo decisamente argomento e esordio col botto per l'estate avellinese con Rosa Chemical. Oggi tradizione e unicità con l'alzata del pannetto, cittadini soddisfatti, così il sindaco rilancia Avellino. Vediamo. Con la tradizionale alzata del pannetto in onore di Sant'Anna si apre il ferragosto avellinese. Nell'anteprima del Summerfest grandi numeri per il concerto di Rosa Chemical. Gli avellinesi apprezzano il programma predisposto dal Comune. Eventi, concerti sono sempre occasioni per rilanciare l'economia e l'immagine della città. Buche di eventi e ricco. Piacciano molto, quindi attireranno sicuramente da tutta la regione in generale. Dietro a tutti questi spettacoli c'è l'affluenza delle persone che corrono a vedere, perché comunque sono tutti personaggi seguitissimi, specialmente quelli del momento. Non sono così tanto convinto che si lancerà la città soltanto concerti. non è mai male, perché è sempre un bene per la città. Si deve pensare pure all'altro che questa città è deserta proprio. Ogni tanto servono pure per le persone che rimangono in città. Io sono contento che veni già a Gioliero e qua ad Avellino. Qualcuno però vorrebbe anche qualche nome del passato per accontentare tutte le fasce di età. Aspettiamo un po' questo famoso nome del 15 agosto, no? Che potrebbe accontentare anche questa fascia della popolazione. Io a questa tempo mi ricordo più giovani perché pensano all'agria. Le persone di una certa età hanno diritto a vivere questi eventi. L'assessore Luongo ha ufficializzato nel frattempo un altro artista, Rove, che si esibirà il 4 agosto a San Tommaso, ancora a Top Secret il nome per il concertone del 16 agosto. Tu chi vorresti? Un guai pequeño. Che ne so, un Gianni Morandi, un Albano, anche se diciamo un genere di musica. c'è uno che ha voce e canzoni ricordevoli. Gigione. Andiamo a Benevento innovare, potenziare e migliorare il servizio di pulizia attraverso un controllo intelligente del territorio nell'ottica della Smart City e l'obiettivo del nuovo piano di spazzamento presentato dall'Asia di Benevento. Una rivoluzione per rendere Benevento più pulita e decorosa è l'obiettivo del nuovo piano di spazzamento presentato dall'Asia che punta su un controllo intelligente del territorio in un'ottica di Smart City. Iniziamo ad attuare questo piano che è anche poi emanazione di un lavoro che nel corso dell'ultimo anno in particolare è di ricognizione del servizio attuale che è un servizio non informatizzato ad un servizio per il quale il cittadino potrà vedere direttamente dal sito i giorni nel quale l'operatore sarà presente in quella determinata strada. Alla base dell'intervento attivo dal 31 luglio un'azione congiunta degli assessorati comunali al Verde al traffico per un miglioramento generale della città Unificare ciò che è il piano di spazzamento associato anche a un piano di taglio insieme ad Asia abbiamo immaginato di suddividere la città in quattro quadranti ognuno è affidato ad una cooperativa che provvederà allo sfalcio dell'erba di cordoli marciapiedi grosse piccole aiuole parchi gioco e scuole Chiediamo ovviamente una collaborazione anche ai cittadini per far sì che questo piano possa essere il più efficace possibile ci saranno dei divieti che dovranno essere rispettati per consentire che Asia possa eseguire questo piano di spazzamento nella maniera più rapida ed efficace possibile E il sindaco Mastella guarda oltre ipotizzando innovativi strumenti di lotta Taglienzi Vados Ho chiesto al ministro delegato di vedere come fare successivamente anche per un drone che possa capitalizzare la possibilità di vivisezionare la città e quindi individuare coloro i quali effettuano cose un po' maldestre ai limiti della legalità Tassi e bottie contro un autobus dell'Eav è successo ad Afragola in provincia di Napoli a denunciare quanto accaduto il sindaco Orsa il fatto è avvenuto in piazza Emanuele Gianturco contro il bus sono stati lanciati sassi e bottie che hanno frantumato un vetro come organizzazione sindacale come lavoratori scrive Orsa Autoferro Campania siamo molto preoccupati il fenomeno non è nuovo si ripete da tempo oltre che di mattina si trova la pericolosità oltre che il fatto che è avvenuto di mattina mette a rischio l'incolumità di molti passeggeri decine di milioni di euro per la riqualificazione urbanistica e culturale Cava dei Tirreni seconda provincia di Salerno cambia volto con i fondi PIX vediamo un sistema integrato nel quale trovano spazio gli investimenti per la riqualificazione urbanistica e culturale della città il complesso San Giovanni di Cava dei Tirreni ha ospitato la presentazione del programma PIX finanziato dalla regione Campania investimenti importanti che cambieranno il volto della seconda realtà urbana della provincia di Salerno in questo momento nella città di Cava dei Tirreni ci sono investimenti per decine di milioni di euro una città viva con dei cantieri importanti tutti improntati a questa linea di tendenza l'ambito di questi programmi trovano una definizione precisa nello spazio urbano delle città medie della regione sono 19 quelle che sono in corso in questo momento Cava sta realizzando un programma importante dimostrando che con queste risorse si può dare avvio a un progetto significativo di rigenerazione urbana non solo cantieri però nell'estate cavese ottimi riscontri anche sul fronte turistico e dell'accoglienza abbiamo una bella presenza anche di stranieri oltre che di cittadini italiani da altre città i nostri B&B sono pieni i nostri alberghi pure ovviamente il nostro è anche un ruolo di supporto che noi facciamo al turismo della costiera maffitana cilentana e anche ai tanti visitatori che vengono per Pompei e Ercolano quindi la nostra città è un po' al centro di questo sistema ne beneficiamo la cosa bella è però che quando vengono a Cava tutti quanti sono contenti a volte di una città che scoprono Dopodomani ricorreranno i dieci anni dalla strage di Acqualonga a Monteforte Irpino il più grande disastro autostradale del nostro paese 40 morti in quell'occasione in quel drammatico volo il ricordo di quella notte del primo medico che intervenne sul posto il dottore Abbenante ci arrivò in moto sul luogo della strage il dottore del 118 Maurizio Abbenante uno dei primi medici in quell'inferno di lamiere morte sotto il viadotto dell'Acqualonga il 28 luglio 2013 sotto la 16 che divenne improvvisamente nota le cronache di Mezzomondo per la strage del bus 40 morti erano tutti di Pozzuoli ritornavano da un pellegrinaggio a Pietrelcina dopo domani saranno 10 anni per quella che resta la più grande tragedia autostradale del nostro paese la scena naturalmente che ci siamo trovati davanti è stata una scena abbastanza drammatica anche perché tutti i soccorsi erano arrivati sopra l'autostrada e non giù quindi noi abbiamo allertato e abbiamo deviato varie autombulanze poi sono arrivati anche i vigili del fuoco che ci hanno dato una grandissima mano come sempre montando sia le cellule fotoelettriche perché si stava facendo buio sia aiutando proprio materialmente a liberare i corpi dalle lamiere erano strazzi in effetti eppure il dottore Abbenante riesce a trovare anche un elemento di speranza da quella tragedia alla quale sopravvissero 4-5 bambini e una di queste bambine l'anno scorso che ha fatto 18 anni è voluta venire a Monteforte per conoscermi perché ha detto che io ci ho donato la seconda vita in effetti perché l'ho tirata fuori dal pulma stesso insomma tante concause hanno provocato quella immane tragedia negligenza imperizia questo lo accerterà il processo che attualmente è in fase di appello ma anche la fatalità basta che casomai non c'era l'interruzione non c'erano le macchine ferme può essere che riusciva a fare la curva e poi si sarebbe fermato in pianura fino al casello dell'autostrada avrebbe rallentato insomma avrebbe avuto modo di fermarsi tariffe dei tributi leggermente ridotte possibilità per i contribuenti di definire accertamenti e ingiunzioni del passato in maniera agevolata il comune di Benevento tende la mano ai cittadini per il profilo fiscale vediamo tariffe etari leggermente più basse per i contribuenti beneventani è stata la decisione dell'ultimo consiglio comunale la volontà dell'amministrazione è stata quella di lasciare sostanzialmente immutate le tariffe aggiungendo agevolazioni per i cittadini dove è possibile abbiamo approvato le tariffe che vedono una leggera diminuzione della tariffa e andremo sempre di più verso questa direzione nel momento in cui quindi ci sarà anche rispetto all'impiantistica anche rispetto alla ripartenza degli impianti di stoccaggio eccetera potremo abbassare quindi i costi previste inoltre le possibilità di definire in maniera agevolata le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi per i contribuenti che avevano ricevuto avvisi esecutivi al 30 giugno 2022 la rottomazione che permetterà ai cittadini di pagare soltanto la sorte capitale più le spese vive senza sanzioni e interessi e anche ribadiamo l'ho già ribadito ma lo ribadisco ulteriormente chi ha avuto i pignoramenti che sono appunto riferiti a situazioni anche molto vecchie diciamo addirittura riferite agli anni 2012 per i tributi non pagati potranno lo stesso aderire alla rottomazione metteremo a breve il modulo per poter aderire con tutte le indicazioni per cui appunto i cittadini potranno beneficiare fortemente voluto dall'amministrazione e dal sindaco di questo strumento che il governo ci ha messo a disposizione e ora andiamo a Scampitella in provincia di Avellino dove c'è stata una grande festa per i suoi 75 anni di autonomia vediamo da 75 anni comune autonomo e festa grande a Scampitella in Irpinia tutti in piazza dai bambini agli anziani è l'orgoglio di un'intera comunità la collettività è giusto che ricordi con quella con quella maiolica con quella ceramica che abbiamo affisso è giusto che ricordi il primo cittadino il dottore Domenico di Spirito che ha diciamo guidato quel consiglio comunale di allora fatto sicuramente di nostri nonni non di nostri genitori ma di nostri nonni sicuramente e la forza di quelle persone che magari forse avevano qualcuno aveva la scuola della quinta elementare qualcuno nessun tipo di istruzione ma avevano la saggezza e noi da quelle persone dobbiamo prendere la saggezza perché l'abbiamo perso un po' per strada questa saggezza io vorrei prendere la saggezza di queste persone vorrei prendere la vitalità dei ragazzi vorrei prendere la determinazione degli anziani oggi è la festa di scambitella da parte mia è davvero tutto grazie ad Aldo Fenizia e Regia vi lascio alle previsioni del tempo poi c'è il TG Sport Grazie a tutti Grazie a tutti